Purtroppo continuano i contagi da Covid-19 ad Agropoli, nonostante l'azzeramento dell'ultima catena di contatti, sono già due i casi registrati. Dopo il caso dell'uomo di Cava dei Tirreni, questa volta si tratta di una cittadina agropolese. La donna è una paziente oncologica che si spostava da Agropoli a Napoli presso una struttura specializzata per ricevere le terapie per la cura del tumore. L'ipotesi principale è che il virus sia stato contratto durante questi spostamenti. È stato proprio il noto presidio napoletano a sottoporla al tampone che ha dato esito positivo. Il comune di Agropoli ne è stato informato nel tardo pomeriggio di ieri dall'ASL e si sono subito attivati per ricostruire la catena dei contatti della donna, che è composta da tre persone già poste in quarantena. Il sindaco Adamo Coppola, nella diretta di ieri sulla nostra emittente, ha avuto un pensiero per la donna inaugurandole una pronta guarigione. Ci auguriamo che la somma delle due malattie non crei ulteriori problemi. Un abbraccio da parte di tutta la comunità di Agropoli. Noi siamo con te. Al momento in città si attendono i risultati di quattro tamponi, uno relativo alla compagna dell'uomo di cava, mentre gli altri tre ai contatti dell'ultimo caso positivo, e cioè la donna. I casi di coronavirus ad Agropoli ora sono 22, compresi tre guarigioni e purtroppo tre decessi.